Stavo ancora nel pantalone. Ah, ti ero rimasto incastrato. Sì, 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 così. E dopo, ormai è andato lì. Stasera è stata una vittoria di squadra. Avete bloccato tanti tiri. Elvis nei momenti decisivi ha fatto le parate. Avete dimostrato che avete tanto carattere. Assolutamente. Penso c'era veramente un pulso completo stasera. Come dicevi tu, ha cominciato con un ottimo portiere. Dopo i difensori hanno fatto un ottimo lavoro nel zone di difesa. Mi sembra che noi attaccanti davanti abbiamo partenato, lottato. Però c'erano veramente tante buone cose. Possiamo dire che la serie è cominciata da gara 2. Dopo la gara 1, insomma, un po' sotto tono del Lugano. Forse da gara 2 avete cominciato a capire che eravate in finale. Magari. Più importante che noi, per noi è un processo. Noi abbiamo già detto come nelle altre serie, vogliamo sempre crescere. Insieme. Adesso facciamo passo per passo. Era il primo passo. Prendiamo le buone cose. Dopo migliorare sempre e andiamo avanti. Non avere subito gol dopo aver preso 5 gol l'altra sera può dare ancora più coraggio alla difesa. E all'attacco, insomma, dimostrando che questa squadra c'è e può arrivare ovunque. Chiaro. Magari abbiamo bloccato subito in zona difesa. Così magari loro hanno fatto un po' fatica con il loro gioco. E appena abbiamo avuto il disco siamo andati avanti. E dopo ci sono tutti piccoli uno contro uno che devi vincere. Mi sembra quello che abbiamo fatto in tutte le zone. Avete vinto le battaglie, avete vinto anche con i special teams che stasera in box play non gli avete concesso poco o niente a loro. Sì, hanno fatto, quelli che hanno giocato hanno fatto un ottimo lavoro lì. Sappiamo che è importante. Quando ci sono questo sacrificio per fare block shots così veramente può dare tanto una squadra. E' importante avere vinto con tre gol dei ticinesi? Avere fatto tre gol con i ticinesi questo può dare ancora più coraggio ai ragazzi? Siamo una squadra uguale a chi sia. Un lettonese, un russo, un canadese alla fine è uguale. Più importante è che facciamo sempre un gol più di loro. Grazie mille.